buonasera è l'ora dell'aperitivo qui abbiamo mosini sempre un po defilato poi abbiamo il nonnino e invece luci luci detto l'appeso perché come vedete è sempre appeso lui invece luce proprio di vicinanza guarda quello scemo di mosè luce proprio di compagnia guarda cioè luci sta proprio vicino al suo nonnino mosè è presente ma mosè è sempre un po più fugace allora adesso vado a preparare l'aperitivo io stanotte quando sono tornato ho visto tutto bagnato e pensavo che tu avessi annaffiato e perché non annaffi ogni tanto anche tu perché annaffi tu io annaffio perché sono obbligata ma mi rompe abbastanza fra tutte le incombenze che ho ecco bravo perché poi mi pungono a me mi pungono le zanzare va bene allora signor lucino lei gradisce anche l'oliva vuole anche l'oliva signor lucino è carino vabbè adesso vado